Il Consorzio Punta Europa che gestisce il Centro della Comunicazione Europea Europe Direct Abruzzo in partenariato con l'Associazione L'Abruzzo in Europa e Anci Giovani Abruzzo ha organizzato un ciclo di incontri online aventi per oggetto la programmazione europea 2021-2027 e un corso di europrogettazione dedicato agli amministratori della Regione Abruzzo, ai dipendenti pubblici e ai professionisti interessati. Sono dieci incontri finalizzati a cosa? Alla formazione di oltre 600 amministratori pubblici ma anche dipendenti comunali della pubblica amministrazione, liberi professionisti, sappiamo quando la necessità c'è di formazione ma anche di concretezza in ambito di progettazione europea che è un linguaggio tutto particolare, esclusivo, specifico e che va quindi conosciuto, fatto anche sperimentare attraverso tavoli tematici concreti e questo è il taglio che abbiamo voluto dare insieme a Anci Giovani che ha una grande volontà di dare un supporto in questa fase a tutte le amministrazioni pubbliche, agli amministratori ma anche ai dipendenti comunali, di collaboratori, i consulenti. Quindi è un momento di alta riflessione, di crescita del territorio ma anche di individuazione dei migliori pratiche, se possibile di condivisione di progettualità di aria vasta per consentire proprio a questo territorio di cogliere l'opportunità dei fondi europei ma anche del PNRR. L'organizzazione del Lanci Giovani? Sì, l'organizzazione del Lanci Giovani che è appunto in collaborazione con Lanci Abruzzo e con il COPE ha deciso di andare a creare alcuni incontri per andare incontro agli enti locali, siano essi gli amministratori oppure i dipendenti, quindi per lo più gli uffici tecnici, che nelle prossime settimane saranno sottoposti alla sfida del nazionale che è quella del PNRR, quindi dovranno avere una infainatura generale di come si potranno andare ad intercettare queste risorse per poi portarle sui territori a livello concreto.